EstraEnergie si aggiudica gare per 47 milioni di euro. La controllata del gruppo guidato da Francesco Macri ha infatti vinto numerose gare per la fornitura di gas nell'anno termico 2018-2019, in totale oltre 87 milioni di metri cubi per un valore che supera i 47 milioni. L'azienda si è giudicata alle seguenti gare, Consorzio Energia Toscana per 31,4 milioni, Società Energetica Lucana 11,5 milioni, Società Toscana Aeroporti 700 mila euro ed infine Consorzio Autostrada Italiana Energia per un contratto che prevede la fornitura di oltre 6 milioni di metri cubi di gas. Risultati importanti che dimostrano la nostra capacità di stare sul mercato nazionale dell'energia, ha commentato Francesco Macri, presidente di Estra, siamo in grado di fornire gas a prezzi competitivi permettendo risparmi che possono essere reinvestiti in servizi nel caso di enti pubblici o in crescita nel caso di aziende. Tutto ciò, conclude Macri, mantenendo salda la nostra politica industriale e i nostri obiettivi di sviluppo.